Allora ragazzi, ben ritrovi sul mio canale, io sono Barry. Ragazzoni miei, siamo tornati con una tanto attesa reaction. Bene sì, perché questo genere di video vi è piaciuto molto, i video passati sono andati molto bene, quindi siccome è uscita l'integrazione nuova, ho detto ciao ma vediamo se c'è qualcuno che magari ha già sparato qualche record incredibile, qualche partita succulenta da cui andare a reactare. Bene, ho trovato questo ragazzo che tra l'altro penso di aver già reactato a un suo video in passato e ha sparato 61 bombe in solo squad su area 99. Di per sé non sembra neanche qualcosa di eclatante, ma io non so se avete mai provato a giocare quartetti su area 99, sicuramente sì, dico, raga, è impossibile, cioè è troppo caotica. Chiaramente si possono vincere i game, si possono fare anche tante kill, ma giocare da soli, secondo me contro quattro è davvero complicato perché ogni volta che fighti, ritrovi costantemente pushato da altre persone che non c'entrano nulla. Questo ragazzo ha sparato 61 bombe e quindi ragazzi andiamo con la reaction. Ed eccoci qua ragazzi, siamo già sulla partita, nel senso che è già startata, ha fatto vedere anche il loadout, sta usando il GPR, credo, è una normalissima solo squad. Tra l'altro posso dire che anche a vedere questa kill qua non mi sembra uno sca... Cioè mi sembra una lobby, anche perché comunque parliamo di lobby di integrazione appena avvenuta, quindi ci saranno anche player bravi all'interno, magari, insomma dai, sparach, sparichiano, sparichiano. C'è da dire una roba che, come ho detto nella intro, solo squad secondo me su sta mappa è 100.000 volte più difficile rispetto a Rebirth per quanto riguarda la possibilità di fightare tu contro quattro persone, perché in realtà non sei mai contro quattro, sei sempre contro quattro e un altro team che sempre arriverà a ter partare. Lui ragazzi si sta muovendo molto bene. Allora, tra l'altro bisogna anche analizzare il fatto che il momento è nuovo e il gameplay è di circa due o tre giorni fa, quindi questa zona di mappa che sta andando a giocare è quella che odio di più in assoluto. L'odio perché non si capisce mai niente sul livello in cui si trovano i giocatori. Già questo gioco ha un problema grosso di audio e lo sappiamo, ragazzi, non stavo neanche qua a sindacare perché tanto penso sia abbastanza oggettivo. Penso che gran parte dei fight lui li farà qui perché è dove si farmano più chili in assoluto. Non è da notare comunque che comunque lo pushano, ragazzi, non è che non lo pushano. Lui è sempre in movimento, però ragazzi c'è da dire che quando vado a reactare generalmente non mi limito a guardare la partita e a ricaricarla, cerco anche di analizzare un attimino per capire chi ho davanti. Questo ragazzo qua non lo conosco personalmente, mi sembra in passato di aver visto qualche suo video e vi dico che a livello di gameplay ci siamo, cioè questo è proprio forte, si muove molto fluido. Mi piace perché è fluido, ecco. Una cosa che ho notato è che sembra tutto un susseguirsi di cose, no? Cioè non è mai fermo, slide, esce dallo slide, fight, rislida, si piastra. Quindi diciamo che ha una conoscenza del movimento. Secondo me ha giocato tantissimo al multiplayer. Le armi che sta utilizzando, peraltro, ecco, questa è una cosa che ci tengo a precisare. Secondo me è sbroccata, ragazzi. Le armi da terra io lo ripeterò, magari sono anche ripetitivo, ma sono fortissime. Cioè il GPR si trova a viola e guardate che roba, cioè beh, forse ho beccato l'unico momento in cui non... No, ok, lo fa. Comunque, non si sta neanche preoccupando troppo di fare il loadout, perché comunque manco gli serve, quindi... Mi raccomando, ragazzi, andate a supportarlo, eh. Iscrivetevi al canale, lasciatevi anche un commentino, magari, perché questo ragazzo merita, ci fornisce dei gameplay al quale reactare interessanti, quindi... Un supporto è il minimo. Bel tracking qua, raga. Tra l'altro non si vedeva niente. Io non so, però, dalla mia povera, raga, vedevo nero. Chiaramente è un video ricaricato, ragazzi, è normale che si sia abbassata la qualità. Lo dico perché so già che nei commenti qualcuno dirà, eh, ma quello lì non si vedeva, lui lo trackava. Tranquilli, ragazzi, che lui vede in maniera diversa da come stiamo vedendo noi. Tracking, comunque, è molto bello. Qua cerca addirittura di wallbangare, giustamente perché tutte le pareti di questa mappa sono praticamente wallbangabili, quindi non c'è mai modo di essere tranquilli. La prima cosa che voglio andare a vedere è il numero di kill. Adesso qua non si vede bene. Comunque, il numero di kill rapportato al numero di persone in vita. Perché vi ricordo che lui farà 61 bombe in questa partita. E al momento qua si vede poco, sì, si vede molto poco, però ne ha 14. E i player in vita sono 28. Tolto lui, 27 con 10 team. Ragazzi, farmare altre praticamente 50 kill in una situazione del genere è da matti. Io non ho visto la partita, quindi non so neanche cosa ci aspetta. Un'altra cosa che ci tengo a precisare di questo gioco che non mi sta piacendo è quando ti hittano. Non capisco mai da dove ti stanno hittando. Non so se succede anche voi, fatemelo sapere. Io penso che questo sia il primo code dove quando mi colpiscono non capisco minimamente se è davanti, dietro, destra. C'è proprio, vado in confusione totale. Molto spesso ci crepo per sta roba. Secondo me non è una cosa solo mia. Fatemi sapere perché ci tengo. Questi abbastanza ubriachi in realtà, però tutti e tre non è che fossero proprio dei fenomeni. C'è da dire comunque che dal punto di vista del contenuto, ormai se siete fan delle reaction, già lo sapete. C'è una cosa che dico sempre, ovvero che quando da content creator fiuti il contenuto, e questa ragazzi è una partita dove fiuti il contenuto. 23 kill, 28 ancora in vita, le persone non scendono, tu farmi kill. Ci sono due generi di content creator. Quello che tira il freno a mano e dice cerchiamo di mantenere una bella partita in maniera tale che poi l'andrò a caricare. E quello che invece dice, fermi un attimo, perché qua abbiamo il gameplay della vita, premiamo sull'acceleratore, quindi o mi va male e non ho il contenuto, o se mi va bene ho un video come questo. Io apprezzo sempre un sacco quando invece scelgono questa, diciamo, fanno questa scelta, perché io ve lo dico proprio sinceramente, la maggior parte delle volte io tendo a tirare il freno a mano, perché non mi interessa, non è che non mi interessa. Ho paura di non essere magari in grado di sparare 61 bombe in una lobby. Ragazzi è andata bene, sono contento, assolutamente sia per me che per lui. Però tanta roba, raga, quindi per questo ci tengo a dire supportate questo genere di creator, perché fidatevi che non è facile, cioè non è veramente facile, assolutamente. Ci vogliono anche due cojones così per farlo, lui li ha avuti, quindi GG, veramente tanta roba. Mi piace anche come riesce a fuggire comunque, quindi Rechal viene colpito, viene craccato, riesce a scappare, utilizza la smoke, si piastra e Rechal ha subito full piastre. Il tutto chiaramente pensato in un istante, è ovvio, non è che abbia scoperto l'acqua calda, però insomma, continuo a farlo, non l'ha mai sbagliato. Non lo so, gesticolando un botto oggi, non tanto adesso. Una cosa che sto notando, tra l'altro, è che secondo me non sta giocando neanche con troppa logica, nel senso che su Rebirth, quindi mappa che comunque ormai tutti conoscono a memoria, come le proprie tasche, c'è sempre una logica. Cioè vado su Prison, cerco di fightare da Prison, vado su Control perché so che la gente va lì, mi tengo la zona, farmo le kill lì. Qua raga, su Area 99, secondo me questo discorso è veramente impossibile da fare, perché è una mappa, è una cozzaia di edifici buttati lì, lui secondo me appunto non sta giocando con una strategia. Lui fiuta le kill, le va a prendere, se le cerca e se le prende, perché non vede una strategia dietro a quello che sto vedendo. Si muove bene, ha un bello shot e soprattutto non ha paura, cioè ci va giù secco e vedete, vabbè qua ha fatto anche una bella turnata. Si era frizzato tutto ragazzi. Stavo dicendo che non mi piace perché comunque è un ottimo giocatore e si vede, e si vede assolutamente, ma se devo pensarlo in un torneo, secondo me è da valutare, capito? Cioè era una piccola parentesi, nel senso che ci sono giocatori e giocatori, questo in pubblica secondo me ti fa i buchi, ce ne sono tanti i giocatori così, vari in Ixta, Metafor anche. Peraltro ragazzi, piccola, altra piccola parentesi, è identico a mio fratello. Levo la cam un secondo, nessuno avrà mai visto mio fratello, però magari se dovesse vedere questi video... Riccardo questo sei tu, te lo giuro, è il tuo sosia, questo è il sosia di mio fratello ragazzi, uguale. Ne approfitto anche per chiedere un attimino cosa ne pensate del gioco, avete comunque avuto modo di giocare ormai da una settimana circa, se vi sta piacendo, se non vi sta piacendo, vi chiedo solo di non essere per partito preso, ovvero per favore raga non dite fa schifo, punto. Cioè piuttosto motivate, se vi piace anche, perché voglio farmi anche un'idea, a me personalmente non sta dispiacendo il movement, è molto carino raga, lo si vede da questo genere di gameplay quanto è bello se sei capace di masterare questo genere di movement che secondo me creerà molto skill gap, che è un movement che si è masterato 9 volte su 10, ma secondo me 19 volte su 20 vinci il fight contro uno che è meno bravo di te, perché lui raga guardate, guardate, guardate qua, cioè avete visto? Questo qua ragazzi gli ha fatto praticamente il giro tondo, cioè non ha neanche capito più dov'era l'avversario, tutto sta che è difficile comunque da masterare. Quello che stiamo vedendo è già un livello veramente tanto alto ragazzi, tanto tanto alto. Questa è un'altra parte di mappa dove solitamente si trovano tante persone, non so per quale motivo, però boh, cioè io quando vado qua trovo un sacco di player, non ha mai avuto situazioni complicatissime secondo me, forse un paio dal quale è uscito bene, è anche assurdo il fatto che siano rimasti secondo me meno tryharder nell'endgame, cioè quello che sto vedendo non mi sembrano dei fenomeni questo intendo, mentre allo start invece fightavano, sparavano gli avversari, giustamente sente il rest e quindi andrà a pushare, esatto infatti immaginavo, si prende le bombe, tra l'altro buono per lui che abbiano anche restato ragazzi 52 kill, cioè boh, io starei sudando freddo qua. Ecco tipo qua cosa fareste? Domanda per voi, pushate per andare per le 60 o giocate di contenimento per vincere la partita facendo comunque, boh, la butto lì 56-57 kill e avere un content assurdo. Domandina, fatemi sapere, io non lo so, ecco forse qua in realtà magari tenterei le 60, a sto punto dici, tanto bella è bella, la carico comunque. Però ecco un'altra cosa che va notata ragazzi, che lui sta fightando letteralmente col giacal blu, giacal blu PDV, chiamatelo come volete, blu, cioè non è normale sta roba secondo me raga che un'arma blu faccia i buchi, i buchi letteralmente, 30 colpi nel caricatore, potenzialmente ti spari anche 3 kill con 30 colpi, da quanto è forte. Attenzione qua, dovuto anche togliere la pubblicità, rischia tantissimo, va a one shot, giustamente adesso corre e ripare, anche perché se porta il nemico qua lo uccide, 100%. Non arriva il recial però, sbaglia la smoke, forse... oh mamma mia, rischiosissimo. Doppia senza corazze questi eh, ottima, gli ha dato anche la kill a lui mi sa, sì? Questo è un altro infatti, mamma mia, leggera smirata, penso che non ci siano dubbi sul fatto che sia legit ragazzi. 1v3, situazione brutta, raga, uscir vivo da qua, solo se gli avversari decidono di farsi ammazzare onestamente, le fa tutte e tre chiaramente perché c'ha 58 kill. Ah qua preferisce pushare, è anche rischiosa sta giocata perché gli ultimi sono in volo? Eh lui è gasato raga, 1v2 per il record mondiale, giustamente. Giustamente non pusha, è rischioso pusharli dentro. Qua sì, devono uscire ma... Ho bloccato uno. 1v1 finale, la porta a casa. Ne sono tante raga eh. 61 bombe e 62 eliminazioni, mamma mia. Eh ragazzoni, che dire, qua siamo di fronte a... Secondo me è un ragazzo che offrirà altri gameplay a cui reactare perché come ho già detto anche in endgame, fluidissimo, veramente fluido. Questo tipo di movement tra l'altro favorisce diciamo persone di questo tipo, quindi persone che vanno a masterare il movement perché ti dà tanto margine, c'è tanto skill gap secondo me rispetto a mv3. Ragazzoni, fatemi sapere cosa ne pensate, mi aspetto che vi rispondiate alle domande che vi ho fatto durante la reaction anche perché se no vuol dire che l'avete schippata, mi raccomando non fatelo. Grazie mille per la visione, un bacione. E alla ragazzo.